L'integrazione di Cristiano è stata semplice proprio per il fatto che lui è un grande campione, come tutti i grandi campioni sono grandi dentro e grandi fuori dal campo, quindi non è stato troppo difficile, anzi è stato molto semplice grazie al suo atteggiamento. Di Bala è un grande giocatore, l'ho dimostrato in tutti questi anni, non dimentichiamoci che negli ultimi tre anni ha segnato più di 20 gol alla stagione, quindi non poteva non essersi dimenticato in cui si giocava, anzi aveva fatto delle ottime partite, ottime prestazioni, poi alla fine giustamente all'esterno si guardano solo i gol, mentre noi all'interno guardiamo anche altre cose, come la prestazione, come si pone verso i compagni, verso la squadra, ed è sempre stato molto così. Ci sono squadre che devono rodarsi un po' di più, squadre che sono partite meglio, direi che è veramente troppo presto, le squadre più grandi sono sempre le solite, il Napoli, il Milan, l'Inter, hanno tutti organici competitivi, e faranno il loro campionato al massimo fino in fondo e poi vedremo.